Program Zero, la community di Evernote, strumenti digitali per la tua produttività professionale. Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video tutorial su Evernote. Oggi vi farò vedere e vi racconterò che cosa sono gli spaces, ovvero gli spazi, una nuova funzionalità che è stata resa disponibile da pochi giorni. In tante iniziamo col dire che è una funzionalità che è disponibile solo per la versione business di Evernote, quindi la versione multiutente e capiremo adesso subito il perché. Andiamo a toccare con mano questi spazi per capire che cosa sono e come funzionano. Bisogna, come vi dicevo, avere un account business e una volta aperto il nostro account potremo andare a utilizzare già la funzionalità degli spazi. Allora, intanto che cos'è lo spazio? Lo spazio è una cosa veramente semplice, lo dice la parola stessa. È un contenitore all'interno di quale possiamo inserire dei notebook, quindi dei tacquini e delle note. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che tutti gli utenti che condividono lo stesso spazio hanno un accesso quindi alle note qui all'interno dello spazio e possono collaborare tra di loro, quindi modificare assieme e quindi lavorare su progetti in maniera più produttiva, in quanto condividono appunto le informazioni. Vediamo nel dettaglio come funzionano. Sulla colonna di sinistra nel menu, per chi è appunto Evernote Business, vedrà comparire questo nuovo menu che è riservato appunto gli spazi. Semplicemente qua troviamo la lista degli spazi con i quali noi siamo in contatto, quindi che possiamo o leggere o modificare. Abbiamo una directory degli spazi che non è altro che una lista di tutti gli spazi che l'azienda mette a disposizione ai suoi utenti e poi c'è la funzionalità per crearne uno nuovo. Andiamo subito a vedere come funziona uno spazio. Ecco, questa è la schermata che ci compare quando apriamo uno spazio. Vediamo che è molto semplice e molto pulita. Questo è secondo me uno dei vantaggi di Evernote. Qua troviamo il titolo dello spazio con la sua nota esplicativa e poi troviamo semplicemente tre aree. Da una parte l'area sulle ultime note che sono state inserite nello spazio, quindi qua posso vedere quando un mio collega, un collaboratore, inserisce qualcosa di nuovo. Mi compare direttamente in questa finestra. Qua invece trovo le note che sono state fissate, quindi le note più importanti che vengono messe in evidenza. Di solito in questo caso, come in questo esempio, possiamo vedere la nota, come si usa questo spazio. Io posso cliccarci e si apre la nota che mi permette di poter vedere appunto quali sono le regole di questo spazio. E sotto troviamo banalmente la lista dei tacquini e delle note che sono all'interno dello spazio di lavoro. In alto a destra vediamo quali sono i componenti, quindi i membri del gruppo sostanzialmente. La possibilità di poter o solo visualizzare o modificare anche il contenuto, perché gli spazi possono essere... Posso partecipare a uno spazio anche in modalità di solo lettura. E poi posso invitare un'altra persona, un collaboratore, a partecipare allo spazio. Quindi come vedete, adesso abbiamo aperto un altro. È veramente molto semplice. È una nuova modalità di collaborazione tra gli utenti. Vediamo come si crea uno spazio. Semplicemente, dopo aver cliccato, posso dare il nome. Chiamiamolo Viaggio sulla Luna. Una descrizione, come da nel mio spazio. Progetto contenente i documenti per andare sulla Luna. Posso decidere se questo spazio entra nella directory aziendale di tutti gli altri spazi e clicco su Crea e lo spazio viene creato. A questo punto posso andare tranquillamente a creare, ad esempio, note e taccuini. Creiamo una nota, in buona abitudine, creare una nota che mi dica quali sono le regole del gioco, ovvero le regole dello spazio, quindi di questo gruppo. Inserire solo documenti di tipo lunare, è un esempio molto fantasioso. Dopo ogni modifica avvertire il proprio responsabile. e dicendo, possiamo chiaramente metterci un bel logo e qualcosa che vado ad identificare quello che è il nostro progetto. Chiaramente le regole delle note sono le stesse sempre che si utilizzano in Evernote e basta. Ecco, vedete che la nota che ho appena inserito compare tra quelle nuove e da questa parte posso, ad esempio, andare a selezionare una nota per fissarla. Quindi faccio così e la nota viene fissata. Qua posso andare ad invitare altri membri dell'azienda per partecipare a questo spazio e quindi renderli parte del gruppo in maniera attiva, quindi possono editare ed invitare loro stesse altre persone, possono solo visualizzare o possono modificare. Quindi le classiche, diciamo, regole dei gruppi. Questo è quanto. A mio avviso è una funzionalità molto potente che per gli ambiti aziendali, quindi gruppi, permette di avere delle funzionalità di collaborazione avanzate perché, in sostanza, rende disponibili tutte le funzioni di Evernote ad un gruppo di lavoro che quindi rimane focalizzato nel raggiungere l'obiettivo che si è posto. Se volete tutelare le informazioni, non esitate a scrivermi e sarò lieto di rispondere alle vostre domande. Ciao e alla prossima!